Mentre DJ Carlone è stanchissimo perché non è facile girare la sala padronale con questa bellissima gente questo ragazzo arriva da Bolzano vero? Da Bolzano sì Quante ragazze ti sei mangiato oggi? Una settanta Ma cammina ma cammina che t'ho visto più volte nel bagno a limonare con un'altra Comunque non dico niente a nessuno, continuiamo il nostro giro, buongiorno, benvenuti, ciao ciao Sulle mani, sulle mani, perché qui siamo a Carnevale, convento di Lonato Me l'ho fatto un urlo, uno strillo Bravi, bravi, ecco tutti siamo quasi alla fine del nostro giro della sala padronale Scusate, passi in mezzo, ciao, ciao chi sei? Buonanotte, stai dormendo? Sì, no un attimo, perché vedi, lei non cerca notorietà, guarda la telecamera Di chi sei? Io sono Deborah Non so, stavo facendo la fotografia, io sono bastardo, noto le balle Ecco qua, adesso poi, scusami, guarda la telecamera Aspetta un attimino, allargati più le gambe, un attimino, mi guarda la telecamera Poi mi saluto Pausa, avvio Sono bastardo, ecco scusami Mi taglio uno Ciao, chi sei? Silvia Silvia, sai chi sei qua, convento di Lonato? Sei qua, convento di Lonato, lo sai? Sì, insieme a questi pazzi qua Tu sei ancora lucida? Quasi Quasi, vedi, non sono accolto Buongiorno, ma ciao, chi sei? Una bimba Posso dare del latte? No, un allo Senti, una domanda così, tu finisci il latte o la banana? Il latte Ma cammina, ma muoviti Dave, Dave, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio nella sala padronale DJ Carlone per il momento è tutto, ci rivediamo più tardi, ciao No, un allo Um Lautaro